Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata Computer Museo. In questa puntata voglio parlare delle carte di credito accettate da Google AdSense per i vari pagamenti. Innanzitutto andiamo nella parte grafica dove ci saranno le tessere non accettate e quelle accettate. Nella parte di no ci troviamo la Paypal, la Postepay e l'Unicredit Bank. La Paypal anche lei ha il codice IBAN o BIC ma non accetta pagamenti dall'estero. In Forse invece troviamo la tessera Banco Posta, praticamente è una tessera che viene data ma anche quella non è stata verificata a parte dal nostro collega TheDaisac94. Invece nelle carte C troviamo la carta C Conto, la Genius Card, la Spider e anche la Super Flash. Praticamente queste carte di credito funzionano tutte con Google AdSense attraverso il codice IBAN, BIC e ovviamente anche l'intestatario della carta. Attenzione però ragazzi, i pagamenti verranno effettuati attraverso questi vari nomi che adesso vedete. I pagamenti verranno effettuati con AFS RE Google, AFS RE Google AdSense, Aervato Finance Service Limited, BFS Finance LT, CT Bank Ireland Financial Service Google AdSense Payment e così via. Comunque questi verranno effettuati sotto questo nome, in caso che non ricevete il pagamento, attenzione, in caso che non ricevete il pagamento contattate sempre a Google per supporto che di solito loro vi risolvono subito il problema. In caso che la tessera è tra queste funzionanti però magari dà qualche problema, comunque questo è il metodo 2014, non so per i prossimi anni se è ancora così oppure cambia. Quindi grazie a tutti per aver visualizzato questo video e ci rivediamo alla prossima puntata da Computer Museo. Ciao!